Resistere al cambiamento delle leggi del mercato e affermare la propria forza sul territorio attraverso la tradizione, 5 aziende dell'area metropolitana di Firenze hanno ricevuto il certificato di iscrizione nel registro nazionale delle imprese storiche, agricoltura, commercio, ristorazione, ognuno ha saputo fronteggiare le novità e adeguare la propria azienda alle novità che hanno accompagnato la loro storia. Nonostante le grosse difficoltà che ci sono sul settore agricolo in particolare e come quasi tutte le aziende alla mente hanno problemi burocratici di poco aiuto delle istituzioni, è molto importante, pensiamo sia un riconoscimento importante e una buona piattaforma pubblicitaria per l'attività soprattutto di turismo gastronomico e di attrazione turistica nella nostra zona. La Camera di Commercio di Firenze nell'area metropolitana raccoglie oltre 130.000 imprese, con le 5 appena inserite nel registro salgono a 114 le realtà che hanno un'attività ultra secolare documentata. Quando vediamo imprese che in vari settori superano i 100 anni e quindi superano questi ultimi 100 anni, sono stati 100 anni che abbiamo visto tutto e il contrario di tutto vuol dire che ce la possiamo fare tutti, nel senso che sono stati bravissimi. Se questi ingredienti li trasferiamo a tutti gli altri potremo avere un'economia di un solido che mai ci guarda, quindi io guardo avanti rispetto a questa storia delle mani di imprese imprese. Il numero più ridotto è difficile? grazie